D'accordo domani, grazie. Grazie molto. A nome del gruppo S, Dio Norola Toia, prego. Grazie. Vi è un'elevata aspettativa riguardo a prima che non possiamo assolutamente deludere. Questa proposta arriva dopo molto tempo, ringrazio il commissario Moedas, ma mette proprio alla prova. Dobbiamo dimostrare di esserne capaci di conciliare un'intuizione, una buona idea con la capacità di realizzazione della stessa idea. Perché tante aspettative? Non sfugge a nessuno che questo progetto interviene in un'area strategica, ma anche molto problematica per l'Unione Europea. Aspettative perché, ponendo al centro della ricerca le risorse idriche e la loro gestione e i riflessi sui sistemi alimentari, ci si aspetta concretamente che questo progetto, questa piattaforma di ricerca, contribuisca a far fronte ad alcune che sono le sfide più grandi che noi abbiamo nel Mediterraneo. Quella del cambiamento climatico, quella della sicurezza alimentare e quella della migrazione. Infine, una grande aspettativa perché è una forma di partenariato molto significativa. Può essere emblematica anche per il futuro. Mette sullo stesso piano paesi europei, paesi extraeuropei, in questo caso africani, chiamandoli a competenze paritarie, ma anche a un'assunzione di responsabilità molto precisa. E io penso che questa cifra, questa modalità di andare di pari passo tra competenze e responsabilità, noi dovremo assumerla sempre per quelle che sono tutte le azioni di cooperazione. Infine, concludo, sarà molto importante, signor Commissario, che si occupa di innovazione, di ricerca e di innovazione, dimostrare che la ricerca può essere uno strumento concreto per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente e per i suoi riflessi precisi sullo sviluppo. Grazie. Grazie, signor Presidente. Molte grazie, onorevole Toia, in particolare per aver rispettato i tempi. Ora, a nome del gruppo ECR, onorevole Marias, prego. Molte grazie, signor Presidente.